ciao a tutti oggi sono qui con la cicina per parlarvi di un nuovo progetto molto importante avrei voluto far venire in video anche la piccolina però queste due sono due gatte ma è come se fossero cane e gatto cioè proprio non vanno d'accordo non c'è niente da fare questo video è in collaborazione con neve cosmetics per il progetto neve personality progetto per il quale neve cosmetics devolverà un importo ad un'associazione animalista ecco quindi il perché quindi quale gattara io non potevo che essere stra felice di far parte di aderire anch'io a questo progetto infatti ringrazio ancora neve cosmetics per questa bellissima opportunità e per questo bellissimo progetto io spero tanto che il makeup che ho realizzato possa piacervi ovviamente se vi va condividete questo video perché è per una buona causa e niente io vi lascio al resto del tutorial e vi mando un bacione ciao volevo fare delle foto anche con lei ha puntato la cicina e non c'è niente da fare se mi avvicino mi morde anche non c'è niente da fare se mi avvicino non c'è niente da fare se mi avvicino piani non c'è Turns Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.